Allora, secondo episodio per stasera Porto, ritorno? Dobbiamo sistemare l'allenamento ma Tanto Pepino mi sa che anche questa mezza partita con il Porto Va, giochi fuori 2-1 per l'Inter Vol di Adic e Lautaro L'Inter comunque dovrebbe passare sia Allora entra il Totagrao Possiglian Sommer Eh, Sommer si sta riprendendo di nuovo la scena Nelle ultime partite Ah, qua potrà battere Pepino Varello Varello caccio d'angolo Stavolta va Pepino Attenzione, Neabri Caccio d'angolo E Abri ancora per De Vrij 3-1 Inter De Vrij Pepino entra subito con l'assist Grande angolo Grande angolo Tutto bene Stavolta 3-1 per l'Inter Solo gol di Navarro Ruic Attenzione per la squadra di Consenzao Eustachio 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 Un bel giocatore Abbiamo fatto una buona partita Dall'andata All'andata Attenzione Comoda per Pepino Anzi Sky Gnabri C'è tranquilla la partita di Pepino Attenzione Balla per Gnabri Ancora Gnabri Gnabri per Turam Fuori Anzi Che è dentro Di Marco Con la squadra di Inzaghi E' tranquilla Unico Bastoni di Marco Bastoni Bissek Audace Buona per De Vrij Balla per Palla per Turam Che sta gioando Meglio Meglio Turam Attenzione Uh Palla per Navarro Gruic Galeno Occhio di testa Di testa Come gli è andato Gruic 3 a 2 E' molto bene Di testa Qua Gruic Bastoni Audace Poi in calo Pepino Audace Le ultime partite Il Porto Ha fatto Una buonissima partita Ha fatto 5-6 interventi Consecutivi Champions E poi Lautaro 4-2 Attenzione Perché si scalda La partita Come l'ha andata Bruic Eh purtroppo Pepino E' in calo Perché L'ultima partita Non prende più di 6 Non riesce a prendere Più di 6 Netto calo Netto calo Probabilmente Non lo so Se l'Inter Se la squadra Vorrebbe Cambiare aria E comunque Non è facile Giocare Nell'Inter Eh vediamo Se l'Ipsia Vediamo Ci sarebbe Anche il Toro Nico Anche il Parisiano Germano Vediamo Magari Magari Rimanere Spontare L'Azzurra Eh però Ragazzi Le ultime partite Pepino Non c'è Soprattutto Nelle uscite De Vrij Barella 4-1 Brutta partita Eh 4-3 Non ci siamo In questo momento Eh non ci siamo Eh c'è il Parisiano Germano Ma Insomma Bisogna discutere Degli obiettivi Di stipendio Anche perché Pepino Deve Secondo me Cambiare Udinese Poi Ucraina A zero L'Inter Vediamo Se contro L'Udinese Succede qualcosa Applaudono tutti Peppino Audace Oggi Applaudono tutti Occhio Punizione Attenzione Attenzione In mezzo Peppino Audace Subito Grande parata Qua Kostic Davies Stoven Wai Mamma mia Wai Quest'anno In enorme Crescita Questo giocatore Barella Barella E Bosse Ci sono Trenta Minuti Pala Davies 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 E' uscita Bravo Barella Dunfriss Dunfriss Mamma mia Buona Inter Sia primo In campionato Che Prima Del girone Bastoni Lautaro Wai Silvestri Calcio d'angolo E' la prossima E' proprio Napoli Inter E allora Poi Faremo Episodio Speciale Napoli Inter Prova Col destro I Dufri Suoi E' Bosse E' Litz Juve Vantaggio A Firenze Kostic Di Marco Migliola Uh Jelitz Jeli Jeli Buono Buono Siamo riusciti a coprire lo spazio Dunfriss Bastoni Adzis K Uoi Bella Per Poi Una fauna Dunque E' bella La partita dell'Udinese Sta giocando anche bene Solo 1-0 L'Inter Ah Ci provai Per Lautaro Poi Ricci Bruno Gimaraes Pereira Bravo Kostic Poi Dunfriss Si avvicina Pepino Bissek Bissek Grazie Chi sei Buona partita Peppino Più che altro Bravo Neuvan Lovric Dunfriss Kostic Prova a ripartire L'Inter Attenzione Calcio d'angolo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Calcio d'angolo Attenzione Oh Vuoi Buono Attenzione Palla per Lautaro Fuori Assurdo Lo zero Il Milan Lo vorrebbe anche Pioli Ci sarebbe la possibilità Pioli lo vorrebbe Ma Vuole l'allenatore spagnolo In Francia Attenzione Occhio Occhio Bissek Pepino Palla per Lautaro Bella per Uai Poi è Bossè Attenzione L'Udinese Gioca nettamente meglio Rispetto All'Inter Questo finale Attenzione Stanno giocando tutti Nelle posizioni Incrediche Lautaro Uh Kostic Kostic Due volte Attenzione Prova Kostic Kostic Un gol di Kostic 1-0 Per l'Inter Un frizz bravo Dumfries 3 a 0 ancora gol di Wai assist credo di Lautaro 3 a 0 sono prima le amichevoli magari potremmo portare Pepino Audace con l'Inghilterra magari contro l'Ucraina 7 Italo-inglese Pepino Audace Bastoni Audace Dumfries l'Inter continua a giocare e finisce 3 a 0 e Pepino Audace oggi non prende golla torna a non riprendere golla importantissimo braccia a Dumfries 3 a 0 anche la Juve e sale di nuovo la prestazione e allora ci facciamo il terzo e ultimo episodio con Pepino vediamo la prima partita inglese ciao ciao